Sono molto soddisfatto dalle continue presenze di visitatori, molti complimenti, sono molto contento, molto stanco, ma molto contento e soddisfatto. Un allestimento molto bello, lei ha veramente molto da esporre, però molto creativo ed è piacevolissimo girarvi intorno. Sì, non è stato semplice perché ci sono molti vincoli strutturali dei passaggi nei vari uffici, eccetera, e anche perché, essendo un artista che fa diverse cose, per cercare di diversificare i vari periodi e i vari miei interessi, ho lavorato molto appunto per dargli un'identità. È riuscito a comprendere, o quantomeno gliel'hanno confessato, quali sono i pezzi che riscuotono più successo di questa ricca collezione di opere? A dire la verità, in tutti i miei lavori c'è chi preferisce alcuni lavori digitali e altri lavori invece materici. Anche molte persone mi hanno fatti complimenti per gli oggetti che ho presentato qui. quando la mostra chiuderà i battenti, a cosa si dedicherà? Vado dove mi porto il cuore, non lo so. Allora in bocca al lupo. Grazie.